ben ritrovati ci troviamo al parco canile empa di monza siamo qui con stefania e con il piccolo gnogno qual è la sua storia esatto allora diciamo che gnogno per noi è un po un caso del cuore perché da poche settimane è venuto a mancare il suo padrone e per lui e lui diciamo che è rimasto solo al mondo e quindi è arrivato qua da noi un cagnolino di taglia piccola probabilmente un incrocio chihuahua a 12 anni quindi è un nonnino si può dire anche se è molto sprint ancora gli piace camminare giocare fare le passeggiate è un cane però c'è da dire adesso lo vedete con me è bravissimo perché ci conosciamo da un po insomma però piuttosto diffidente nei confronti delle persone che non conosce quindi qual è la famiglia ideale allora l'adozione diciamo sicuramente una famiglia senza bimbi piccoli perché magari potrebbero volerlo toccare troppo presto e magari lui potrebbe non rispondere nel migliore dei modi diciamo magari qualcuno con un pochino di esperienza che gli dia tempo di abituarsi alla sua nuova famiglia ecco ideale un appartamento una casa con spazio all'aperto allora lui potrebbe vivere in realtà comodamente in appartamento facendo i suoi giretti quotidiani andrebbe bene anche una casa con giardino in sicurezza nel senso che lui è piccolino magari potrebbe passare tra le sbarre del giardino per uscire anche se nonnino però sempre vivendo poi a contatto con la famiglia insomma non fuori in giardino da solo quindi ha bisogno di affetto e attenzioni assolutamente sì sì dicevi ama le passeggiate quindi sa stare bene al guinzaglio allora pensiamo in realtà che non conoscesse molto bene gli strumenti come guinzaglio pettorina e collare però diciamo che da quando è arrivato ha fatto dei grandi passi avanti adesso viene impasseggiata tranquillamente anche fuori dal canile sì ecco speriamo che trovi presto una nuova famiglia per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623